Russell, questo è il primo anno, il primo campeonato in Italia e sei alla finale, come ti senti? Mi sento bello, è un grande accomplishment per me e per la squadra, e sono orgoglioso di essere parte di questa squadra e di questa squadra, e spero di poter portare una cupa italiana. Perugia ha cresciuto molto da l'inizio dell'anno. Perugia ha cresciuto molto. Sì, sicuramente, credo che ogni match abbiamo appenapposto, e abbiamo appenapposto molto di noi, e abbiamo sempre chiesto di migliorare, e credo che siamo in una posizione in cui siamo nella nostra performance top, e stiamo sentendo bene di noi, siamo confidanti, e stiamo felici per iniziare le finali. Sì, credo che i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro per mi supportare all'interno di questa pressione, e è stato molto divertente di giocare con loro, e ho spero di continuare a giocare all'interno di questo livello, e che i ragazzi continuano a supportare me come sono. Grazie a tutti. Grazie a tutti.